San Tzu Conoscere l'altro e se stessi, 100 battaglie, senza rischi. Non conoscere l'altro, e conoscere se stessi, a volte, vittoria, da volte, sconfitta. Non conoscere l'altro, né se stessi, ogni battaglia è a un rischio certo. Se vuoi attaccare in un punto vicino, simula di dover partire per una lunga marcia. Se vuoi attaccare un punto lontano, simula di essere arrivato presso il tuo obiettivo. Chi, in 100 battaglie riporta 100 vittorie, non è il più abile in assoluto, al contrario, chi non dà nemmeno battaglia, e sottomette le truppe dell'avversario, è il più abile in assoluto. Se non conosci te stesso, né conosci il tuo nemico, sì certo che ogni battaglia sarà per te fonte di pericolo gravissimo. Si attacca con la forza frontale, ma si vince con quelle laterali. Il timore di un danno frena L'azione logora La prospettiva di un vantaggio incita Il valore delle operazioni militari risiede nella vittoria, non nel temporeggiare. Il potere nasce solo quando tutte le condizioni si verificano contemporaneamente. Chi è abile nel creare lo straordinario e infinito come il cielo e la terra, inesauribile come il fiume giallo e l'oceano. Il di suprema importanza sconvolgere la strategia del nemico, in secondo luogo spezzare le sue alleanze, in terzo luogo attaccare il suo esercito. La scelta peggiore è assediare le città fortificate. Nessuno dei U5 elementi trionfa costantemente sugli altri, nessuna delle U4 stagioni dura costantemente, i giorni sono lunghi o corti, la luna è calante o crescente. Chi è prudente e aspetta con pazienza un nemico che non lo è, sarà vittorioso. Per essere certo di conquistare la zona dove è impegnato battaglia, attacca un punto che il nemico non difende. Per essere certo di tenere ciò che difendi, attestati dove il nemico non può attaccare. Quando il nemico si trova a suo agio, può essere messo a disagio, quando è sazio, gli si può mettere fame, quando è stabile, può essere scosso. Il generale esperto crea situazioni grazie alle quali non potrà essere battuto, e non si lascia sfuggire alcuna occasione di porre in condizioni di inferiorità il nemico. Se adottiamo un punto di vista corretto, possiamo tenere sotto controllo vaste distanze, per quanto limitata sia la nostra persona. Non c'è mai stata una guerra protratta nel tempo che abbia portato vantaggi a una nazione. Se qualcuno mi chiede, che cosa posso fare contro una gran schiera di nemici, bene organizzata, che si avvicina. Rispondo, impadronisciti di qualcosa cui l'avversario tiene molto, ed egli dovrà venire a patti con te. Solo valutando tutto esattamente si può vincere, con cattive valutazioni si perde. Quanto esigue sono le probabilità di vittoria di chi non fa alcun calcolo? In battaglia, usa metodi ortodossi per affrontare il nemico. Usa metodi straordinari per ottenere la vittoria. La rabbia può trasformarsi in gioia. Il rancore può trasformarsi in delizia. Ma uno stato estinto non può tornare a vivere, né un morto tornare in vita. Così il sovrano illuminato pondera tutto ciò e il buon generale agisce cautamente. Il comandante saggio comincia dall'analisi di se stesso. Il suo primo obiettivo non è cosa fare, bensì il come essere. Essere semplicemente se stessi conferisce un potere spesso trascurato nello sforzo di essere qualcun altro. Reggere una moltitudine è come reggere un gruppo sparuto, una questione di suddivisioni. Combattere una grande guerra armata è come combattere un esercito esiguo, una questione di disposizioni. Attendi vicino al campo di battaglia chi è ancora lontano. Attendi riposato chi si sta affaticando. Attendi ben sazio chi giunge affamato. Questa è l'arte di padroneggiare la forza. Il sapere è la base di qualsiasi azione e il sapere superiore assicurerà la vittoria. Offri al nemico un esca per attirarlo, fingi disordine fra le truppe, e colpiscilo. Se ho udito di azioni maldestre riuscite grazie alla rapidità, mai ho visto riuscire un'abile operazione che fosse anche prolungata. È sua dente sottovalutare un nemico ma è anche spesso fatale. Chi parla con deferenza ma aumenta i suoi preparativi avanzerà. Uno che parla con bellicosità ed avanza dovrà ritirarsi in fretta. La distruzione lascia solamente devastazione non solo per gli sconfitti, ma anche per i conquistatori. Un risultato superiore consiste nel conquistare intero e intatto il paese nemico. Distruggerlo costituisce un risultato inferiore. Il territorio genera la lunghezza. La lunghezza genera il volume. Il volume genera il calcolo. Il calcolo genera il confronto. Il confronto genera la vittoria. Grazie per la visione.